Dovendo studiare moti che non avvengono più soltanto in una sola direzione ma nel piano, se per caso un punto materiale si muove su una circonferenza, parliamo di moto circolare. Lungo la traiettoria, quando questo punto materiale si va spostando, la direzione della velocità cambia continuamente. Però, se per caso il valore numerico della velocità, cioè il modulo, si mantiene costante, si parla di moto circolare uniforme. Circolare per via della forma della traiettoria, uniforme non perché si tratti di un moto uniforme, perché non lo è, trattandosi di un moto nel piano con la direzione della velocità che cambia continuamente, però è il modulo della velocità che si mantiene costante, l'uniformità consiste essenzialmente in questo. Il fatto che il modulo della velocità si mantenga costante ci garantisce anche che il moto si ripeta periodicamente sempre uguale a se stesso. Cosa vuol dire periodicamente? Vuol dire che esiste un tempo t chiamato periodo, che è quello impiegato dal punto materiale per fare un giro completo, che poi si ripeterà sempre uguale, cioè ci vorrà sempre lo stesso periodo t per fare un giro completo. Esempi pratici possono essere il moto delle lancette di un orologio, ad esempio, oppure il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole. La cosa nuova che andiamo ad incontrare è che, anche se il modulo della velocità non cambia nel tempo, in realtà in questo moto abbiamo un'accelerazione, dobbiamo capire il perché. Esaminiamo per esempio due esempi qui rappresentati, di due posizioni diverse occupate negli istanti t1 e t2. E i vettori posizione, se riferiamo l'origine al centro della circonferenza, mettiamo l'origine qui, i vettori posizione sono questo che sto indicando in rosso, è la posizione iniziale, è quello che indico in verde, rappresenta la posizione finale, le indichiamo con r1 e r2. Queste sono le due posizioni. Dopodiché abbiamo anche i valori della velocità. Avendo v1 uguale v2, non significa che le due velocità sono uguali. Visto che sono diverse le direzioni, sono diversi i vettori velocità. Quindi noi scriviamo v1 uguale v2 in modulo, ma dal punto di vista vettoriale dobbiamo scrivere v1 diverso da v2. Queste velocità non sono uguali, quindi quando andiamo a calcolare l'accelerazione media, è pari al rapporto tra variazione della velocità e intervallo di tempo. Quindi sopra avete la differenza v2 meno v1 e sotto avete l'intervallo di tempo t2 meno t1. E qui viene il punto. Adesso vediamo graficamente cosa succede quando io faccio la differenza tra il vettore v2 e il vettore v1. Per fare questa differenza graficamente, quindi ho tracciato una copia del vettore v1 in modo tale che v1 e v2 abbiano lo stesso punto di applicazione. Per fare la differenza sapete che uno dei modi più rapido di procedere è quello di unire le estremità del vettore v2 e del vettore v1. In particolare si può unire le estremità del vettore iniziale con l'estremità del vettore finale. Questa è la differenza delta v, cioè v2 meno v1. Questo vettore delta v è nullo? Non lo è. E questo è un risultato fondamentale. Pur avendo la stessa intensità ai vettori v2 e v1, quando facciamo la differenza dal punto di vista vettoriale ottenete un vettore diverso da zero, il che significa che anche l'accelerazione media è diversa da zero. Quindi bisogna fare attenzione a questo. Quando ci si muove sulle due dimensioni, sulle tre dimensioni, si può avere una velocità in modulo costante, ma nonostante questo possiamo avere lo stesso un'accelerazione. Il cambio di direzione della velocità comporta di per sé un'accelerazione senza che il valore in metri al secondo della velocità cambi. E questa cosa la percepite chiaramente quando siete magari in macchina e la macchina sta facendo una curva. Se la macchina sta percorrendo una curva, ma quella curva la risentite sotto forma di accelerazione e vi sentite sballottati a sinistra o a destra per il semplice fatto che la macchina sta andando in curva e la sua velocità sta cambiando direzione. Ora dobbiamo capire un po' meglio com'è fatta l'accelerazione nel moto circolare uniforme, però prima di andare a questo vediamo alcuni elementi principali più basilari. Abbiamo detto che il tempo necessario per fare un giro completo si chiama periodo. Ad esempio per la lancetta dei secondi di un orologio quanto vale il periodo? In quanto tempo la lancetta dei secondi fa un giro completo? 60 secondi e quindi questo è il periodo della lancetta dei secondi. In modo analogo la lancetta dei minuti avrà un periodo di 60 minuti e quella delle ore un periodo di 12 ore, giusto? Attenzione non cadete nella trappola che sono 24, l'orologio a lancette va sulle 12 ore e non sulle 24. Chiaramente poi ci possono essere anche i moti circolari molto più lenti o molto più veloci di questo. Molto più lento per esempio è il moto della Terra attorno al Sole, che il periodo in quel caso è un anno, 365 giorni. Oppure molto più veloce può essere ad esempio il moto di un elettrone attorno al nucleo, se nel modello atomico. In quel caso il periodo è estremamente breve, molto al di sotto di un secondo, perché ordini di grandezza al di sotto del secondo. Comunque avete capito il senso di questo discorso. Adesso definiamo la frequenza. La frequenza viene definita in generale per i moti periodici, cioè i moti per i quali esiste un tempo t superato il quale il moto si ripresenta con le stesse caratteristiche. La frequenza, che indichiamo con f, è per definizione l'inverso del periodo. Ovviamente si misura in 1 su secondi, che possiamo scrivere anche come secondi alla meno 1, e a questa unità di misura si dà il nome di Hertz. Indicato con Hz, indicato con Hz spesso, Hertz secondi alla meno 1, di fatto rappresenta, se t è il tempo necessario per fare un giro completo, il suo reciproco è il numero di giri che vengono fatti nell'unità di tempo. Facciamo un esempio. Se il periodo è di 0,2 secondi, quindi un quinto di secondo, la frequenza f è l'inverso del periodo, 1 su t viene 1 fratto 0,2, che fa esattamente 5 Hertz. Significa che vengono fatti 5 giri al secondo. Questo è il caso di un moto molto rapido. Allora, supponiamo di prendere un altro esempio, prendiamo un altro periodo t2 invece lento, nel caso della lancetta dei secondi, che il periodo sia 60 secondi. Vediamo quanto vale la frequenza. In questo caso abbiamo 1 su 60 secondi, e viene chiaramente molto minore di 1, misurato in Hertz. 0,017 Hertz, in questo caso una frequenza bassa. Ci siamo? Più grande il periodo, più piccola la frequenza, e viceversa. E queste sono le due grandezze fondamentali che andiamo a individuare per qualsiasi moto periodico. Attenzione, queste non sono specifiche del moto circolare uniforme. Si applicano al moto circolare uniforme, ma si possono applicare a qualunque altro tipo di moto periodico, per esempio l'oscillazione di un pendolo. Ora vediamo invece una cosa più specifica del moto circolare. Se io voglio calcolare il valore del modulo della velocità, e so che è costante, per calcolarlo mi serve uno spazio percorso e un tempo impiegato a percorrerlo. Se come spazio percorso prendiamo l'intera circonferenza, quanto tempo occorre per percorrere l'intera circonferenza? Un periodo, e noi possiamo utilizzare questa informazione per calcolare il valore della velocità. Velocità uguale spazio fratto tempo, e lo possiamo fare così perché il valore è costante. Come spazio prendiamo la lunghezza della circonferenza, che è 2π per il raggio della circonferenza, e come tempo prendiamo il periodo. Ed ecco che ci ritroviamo con una formuletta per calcolare la velocità scalare nel modo circolare uniforme, 2πr fratto t. Questo è specifico per il modo circolare uniforme. A titolo di esempio, prendiamo il calcolo della velocità con cui la Terra si muove attorno al Sole. In questo caso, il periodo t qual è? 365 giorni uguale 365 per 24 ore in un giorno per 3600 secondi. Il risultato di questa operazione è circa, a tre cifre significative, 3,15 per 10 alla 7 secondi. La distanza Terra-Sole conosciuta, diciamo un'unità astronomica per chi sa il significato di questa espressione, e questa distanza ha due cifre significative, 1,5 per 10 alla 11 metri, che corrisponde con i 150 milioni di chilometri della distanza Terra-Sole. Possiamo usare questi due dati per capire quanto la Terra si muova velocemente attorno al Sole. Abbiamo detto che il moto è lento. Lento nel senso che occorre un anno perché si completi un giro completo, ma tenendo conto dell'enorme distanza Terra-Sole, non è affatto detto che il moto sia poi così lento in termini di velocità chiamata scalare, la velocità costante, il modulo della velocità costante. Andiamo a fare il calcolo. Per la velocità abbiamo 2π per, abbiamo detto, 1,5 per 10 alla 11 metri fratto il tempo che pur essendo grande, cioè 3,15 per 10 alla 7 secondi, ha un 10 alla 7 come ordine di grandezza, ma sopra c'è un 10 alla 11, che è l'enorme distanza Terra-Sole rispetto alle distanze a cui siamo normalmente abituati. Per cui, di fatto, nel fare il rapporto, intanto compare metri sui secondi, 10 alla 11 fratto 10 alla 7 vi fa 10 elevato a 4. 10 alla 4 è il rapporto fra 10 alla 11 e 10 alla 7. E quindi già cominciamo a vedere che la velocità non è poi così bassa. Per quanto riguarda la parte numerica, osservate che 2 per 1,5 fa 3. Per quanto riguarda π è 3,15. Ora, π è 3,14. Quindi il rapporto 3,14 su 3,15 sostanzialmente ha due cifre significative, possiamo dire che fa 1. Per cui ha due cifre significative. Il risultato è 3 per 10 alla 4 metri al secondo, cioè la Terra percorre la bellezza di 30.000 metri al secondo. o se volete, 30 km al secondo. Questa è la folle corsa alla quale tutti noi partecipiamo per il semplice fatto che la Terra ci trasporta nella sua giostra attorno al Sole. Ve lo saresti aspettato un valore così alto? Esaminiamo ora un breve test su quanto appreso finora. Allora, è un vero o falso sul moto circolare uniforme. In un moto periodico il periodo è uguale al reciproco della frequenza. Vero o falso? Andiamo un attimo a rivedere cosa abbiamo scritto nella teoria poco fa. Guardate soprattutto questa espressione, quella in cui abbiamo definito la frequenza. La frequenza è definita come il reciproco o l'inverso del periodo. È chiaro che da qui potete ricavare anche la formula inversa, che vi dice che il periodo è esattamente l'inverso della frequenza. Quindi chi ha risposto vero ha dato la risposta esatta. Il reciproco della frequenza, vedete? Domanda B. Tutti i moti periodici avvengono su traiettori circolari. Vero o falso? Le cose che abbiamo detto riguardano la frequenza e al periodo riguardano in generale tutti i moti periodici. Ho fatto anche l'esempio del moto del pendolo. E il moto del pendolo non è un moto circolare uniforme. La definizione di velocità calcolata come 2πr fratto t è specifica per il moto circolare. Quando dice nel testo dell'esercizio, tutti i moti periodici avvengono su traiettori circolari, beh, non è vero. Ci sono altri tipi di moti periodici. Lo stesso moto della Terra attorno al Sole non è perfettamente circolare. È ellittico con un'ellisse che non è esattamente una circonferenza. Nel moto circolare uniforme la velocità è direttamente proporzionale all'accelerazione centripeta. Qui manca una formula che non abbiamo ancora scritto, in effetti. La relazione esistente è fra velocità e accelerazione centripeta. Qua dice che sono direttamente proporzionali. Per capire come si trova l'accelerazione nel moto circolare uniforme, pensate in questi termini. Prendiamo una circonferenza che rappresenta il nostro moto circolare uniforme. Allora, questa circonferenza rappresenta la traiettoria su cui si sta spostando il nostro punto materiale. Lasciamo da parte il compasso perché ci servirà di nuovo. Adesso, guardate un attimo il vettore velocità. Lo andiamo a tracciare qui. Supponiamo che all'inizio il punto materiale sia in questa posizione. E abbiamo un vettore V1. Poi passa un quarto di periodo e trovate il vettore velocità in questa posizione. Della stessa lunghezza, ma girato di 90 gradi. Questo è V2. Poi passa un altro quarto di periodo e trovate il vettore in questa posizione, sempre della stessa lunghezza, ma girato di un altro angolo di 90 gradi. Questo è V3. Poi avete, dopo un altro quarto di periodo, il vettore in questa posizione, in orizzontale rivolto verso destra. Questo è V4. Quando trascorre un intero periodo, vi ritrovate di nuovo nella posizione di partenza. E adesso facciamo una cosa. Questi vettori, ora, li andiamo a piazzare tutti applicati allo stesso punto. Quindi andiamo a disegnare qui il vettore V1. Poi qui disegniamo il vettore V2, della stessa lunghezza. Poi qui disegniamo il vettore V3, sempre della stessa lunghezza. E infine il vettore V4, della stessa lunghezza. Ora, prendiamo... Visto che sono tutti della stessa lunghezza, le estremità di questi vettori si trovano sui punti di una circonferenza che ha per raggio il valore della velocità. Se questa distanza, questa lunghezza qui, è pari al modulo del vettore velocità, piazziamo qui il compasso, ok, lo accorciamo fino a farlo diventare lungo quanto il vettore velocità e poi tracciamo questa circonferenza. Ora, notate una cosa. Mentre il nostro punto materiale, che ha il suo raggio vettore, percorre la sua traiettoria circolare, nello stesso periodo il vettore velocità percorre una sua traiettoria circolare con l'estremità. Considerate una cosa. Il vettore velocità è tangente alla traiettoria nel moto circolare uniforme, ok, in generale in qualsiasi moto piano. Ora, noi sappiamo che l'accelerazione è la velocità con cui cambia la velocità. Ci siete? Essendo il rapporto variazione sulla velocità nel tempo, l'accelerazione è la velocità con cui cambia il vettore velocità. E allora, se prendiamo il moto dell'estremo del vettore velocità su questa seconda circonferenza, la sua velocità è a sua volta tangente alla traiettoria e la rappresentiamo quindi con un vettore in blu. Quindi in ogni istante la velocità all'inizio è questa, ma questa non è dimensionalmente una velocità, è un'accelerazione. Questa è a1, quando questo è v1. Questa è a2, quando questo è v2. Vi è chiaro? È lo stesso negli altri casi. Quindi il vettore accelerazione sta al vettore velocità, così come il vettore velocità sta al vettore raggio. Vi torna questo? Di fatto questo ci dà una proporzionalità, perché siccome sono due moti che procedono con lo stesso periodo t comune, noi ci ritroviamo con questa proporzione. Velocità sta a raggio, come accelerazione sta a velocità. E questo permette di ricavare una formula per calcolare l'accelerazione nel moto circolare uniforme. È un'accelerazione che, se vedete, ha la stessa direzione del raggio vettore. Se prendete a2, ha la stessa direzione di r2, solo che ha il verso opposto. Come vedete, l'accelerazione è rivolta verso il centro della traiettoria in ogni punto. Nella posizione iniziale, invece, l'accelerazione qui è orizzontale, quindi adesso se la vado a tracciare, la devo tracciare così, sempre rivolta verso il centro della traiettoria. Per questo motivo questa accelerazione si chiama anche centripeta. E quindi voi avete adesso, per calcolarla, da risolvere questa proporzione. Dobbiamo calcolare a e vi ritrovate con a uguale v al quadrato fratto il raggio. Allora, la proporzionalità tra l'accelerazione e la velocità è vera o è falsa? Ora abbiamo modo di rispondere. Torniamo alla domanda. Accelerazione e velocità sono direttamente proporzionali, sì o no? Alla luce di questa rivelazione. L'accelerazione è proporzionale al quadrato della velocità, non alla velocità stessa. Quindi chi aveva risposto vero ha dato la risposta errata, chi aveva risposto falso ha dato la risposta corretta. Nel moto circolare uniforme la velocità è direttamente proporzionale all'accelerazione centripeta? No, non sono direttamente proporzionali, l'una è proporzionale al quadrato dell'altra, quindi qua bisogna segnare falso. Leggiamo l'ultima. Quando un punto si muove di moto circolare uniforme, il rapporto fra la lunghezza dell'arco di circonferenza che percorre il tempo impiegato a percorrerlo si mantiene costante. Il rapporto fra la lunghezza dell'arco di circonferenza che percorre il tempo impiegato a percorrerlo. È scritto in modo un po' complicato, ma sostanzialmente vi sta dicendo come calcolare la velocità scalare, spazio fratto tempo. Dal momento che parla di moto circolare uniforme, il rapporto tra spazio, cioè lunghezza dell'arco, e tempo deve essere costante. Per cui a questa domanda possiamo dire che l'affermazione è vera, questa è vera. Nel calcolare la velocità abbiamo fatto il rapporto fra la lunghezza dell'intera circonferenza e il periodo, ma per esempio se ragionassimo non sull'intera circonferenza, ma su mezza circonferenza, otterremo lo stesso risultato, perché per mezza circonferenza dovremmo calcolare πr come spazio. Per il tempo impiegato dovremmo prendere mezzo periodo. Facendo il rapporto spazio sul tempo, πr fratto mezzo periodo viene comunque Δs su Δt uguale πr fratto t mezzi uguale 2πr fratto t. Quindi come vedete il risultato non cambia. Grazie per la visione!